Tu provi a individuare delle figure storiche del Veneto, dei cosiddetti maestri, insomma, che forse possono insegnarci qualcosa. E poi mi sembra che tu sia molto ottimista rispetto alla società veneta che può ancora provare a cambiare. Beh, sui maestri la domanda era da chi si va a imparare oggi? Io vi invito a leggere il libro così vedete se ci ho preso o se vi ritrovate. Il fatto che quando le elezioni vanno male poi la colpa è sempre degli elettori che hanno sbagliato, no? Quindi se Luca Zaia si è ripresentato con i 50 erotti, la colpa è degli elettori di centro-sinistra che non hanno votato. Voglio dire, queste spiegazioni qui lasciano il tempo che trovano. Io sono ottimista in quanto mi rifiuto di pensare, secondo quella frase americana, it's my country, sì va bene, sarà brutto quanto vi pare questo Veneto, però è il mio paese, cosa devo fare? Vi invito a guardare un film, se vi capita, che si chiama Bandizza, che sta girando adesso, due ore che sembra di finire sotto il treno. Cioè una roba spaventosa di quello che il Veneto è riuscito a fare come sviluppo. Noi eravamo la locomotiva d'Italia, vedete un po' che locomotiva, che cosa voleva dire lo sviluppo? Ci sono stati, ci sono un sacco di sviluppi che potevamo risparmiarci completamente e taglio. Quello che diceva Ernesto Milanesi è abbastanza vero, ed è una cosa nota, perché pochi, sempre quelli, fanno tutto. E dunque abituiamoci a guardare in giro. Era così anche prima, io quando ho scritto I padroni del Veneto mi hanno detto il tuo libro era profetico, perché l'ho scritto prima degli arresti, non è che raccontavo le tangenti, non potevo saperlo, però che pochi, sempre quelli, facessero tutto, era sotto gli occhi di tutti quelli che potevano e volevano guardare. Sulla corruzione, guardate che è così pervasiva da far paura, cioè pensate, il sistema MOSE coinvolge la crema dell'organizzazione sociale, dentro in galera sono andati professionisti, manager, magistrati, avvocati, generali, questi qua sono ai vertici dell'organizzazione sociale del nostro paese. E con ciò però, voglio dire, nel libro, io tocco anche altri, nel libro Veneto anno zero, qui a Padova, per esempio, al Catasto, bastava a pagare 30 euro, e tu non facevi la coda, e ti davano la pratica, subito, invece di tornare il giorno dopo, tutti lo sapevano e pagavano, trovavano normale pagare, tanto che nell'inchiesta padovana, che si chiama appunto Pantano, non c'è la concussione, c'è solo la corruzione, cioè la famosa società civile si presentava già con i 30 euro, trovava normale, a Venezia, con 100 euro, l'impiegato di qualche ufficio tecnico cancellava con il cancellino la linea sul mappale e tu potevi avere la licenza edilizia. Cioè, voglio dire, era una cosa che ci chiama dentro, questo voglio dire. Ora, la mia ricetta, non so se esiste, io non ho ricette, sono esattamente uno come voi, quindi voi guardate me, ma sarebbe l'inverso, io vi do il microfono, voi parlate e io vi guardo, cioè che ricetta posso avere, che proposta posso fare. Cioè, io sono rimasto impressionato da quello che ho letto di Cantone, qualcuno non lo stima per niente, però ha scritto un libro, che è Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC, e dice, ha scritto un libro che si chiama Il male italiano, e racconta che, un faterello minuscolo, però secondo me impressionante, il comune di New York ha fatto un'indagine sulle multe per sosta vietata, torna al palazzo dell'ONU, allora lì tutte le delegazioni hanno l'immunità e nessuno paga la multa, il comune si ha rotto le scatole, ha fatto un'indagine, e sapete chi sta in prima fila, cioè in alto, quelli che pagano di meno le multe sono i paesi nordici, le delegazioni dei paesi nordici. La delegazione del nostro paese sta al centesimo posto, distante dai primi, cioè noi italiani, anche se non paghiamo la multa, vogliamo la macchina dove ci pare, invece di altri, che pure non pagano la multa, la mettono, tendono a metterla nei posti abituali, nei posti giusti. Questo, sentite, ci chiama dentro profondamente. Io vi invito, come ricetta, a guardare il nostro metro quadrato, se noi insistiamo sul metro quadrato e lo teniamo pulito, forse con tanti metri quadrati qualcosa di meglio nel Veneto si potrà fare, nel tempo stesso guardando anche all'opposizione, quello che ha fatto l'opposizione in questi cinque anni, l'opposizione in Consiglio regionale, è tremendo, si possono raccontare delle storie, le commissioni di inchiesta, per esempio, presedute tutte da cocciglieri regionali del centro-sinistra e dell'opposizione, hanno marcato visita, c'è una commissione di inchiesta sui project, ma non so, vi invito ad andare a vedere cosa ha combinato, niente, è una storia, io nel libro, appunto, riassumo questa vicenda, ma ce n'è un'altra, anche la commissione di inchiesta sul palazzo Grandi Stazioni, che è il palazzo che, grandi stazioni, società, mista, ferrovie e privati, vende alla Regione Veneto per il doppio del valore, 35 milioni di valore stimato, 70 milioni di valore di compravendita, la Regione compra e paga una mediazione di 1.700.000 euro a un signore che si chiama Gian Michele Gambato, tanto i nomi noi li facciamo, ed è questo signore qui, inquisito, ed è presidente di un'industria di Rovigo, oltre ad essere anche il titolare, il presidente di una società regionale che si chiama Sistemi Territoriali. Cioè, voglio dire, se io, per montaggiare le tre simiete, non vedo, non ascolto, non parlo e neanche non leggo, buonanotte.